Nello scorso fine settimana si è conclusa a Villafranga Tirrena, in provincia di Messina, la tre giorni di esercitazioni ex sisma dello stretto 2022, che ha visto in gambo tutto l'imponente sistema di protezione civile nazionale e 2.500 volontari soltanto in Sicilia. Alle esercitazioni erano presenti anche i volontari del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta. Tutti i volontari hanno contribuito sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi, primo fra tutti testare la capacità di risposta della protezione civile regionale. I volontari dell'AMPS di Caltanissetta e il suo nucleo cinofili attualmente è primo e unico del Sud Italia, che nello scenario riservato gli ha dimostrato grande professionalità. Il volontario Giuseppe Laspisa ha donato all'AMPS di Caltanissetta i due splendidi volontari a quattro zampe, Enzo e Lola. Venerdì 4 novembre siamo partiti alle 4 e mezzo alla volta di Dittaino, dove si è costituita la colonna mobile che poi sarebbe partita circa 150 mezzi alla volta di Messina, che era la zona dove si presumiva dovesse esserci il sisma. L'esercitazione infatti si chiama Exemessina 2022. L'ipotesi è quella di un sisma disastroso, ovviamente, che interessa la Calabria e la Sicilia con il probabile origine anche di uno tsunami. È stato mobilitato l'intero sistema di protezione civile, quindi marina militare relativamente allo tsunami, forze dell'ordine, croce rossa, vigile del fuoco numero uno e i volontari. La Sicilia ha risposto in modo straordinario perché ha mobilitato circa 2.500 volontari, circa 400 mezzi, poco più poco meno, in otto campi dislocati sul lato dello Ionio e sul lato del Tirreno. Noi eravamo a Villafranca Tirrena, lato Tirreno. Lì abbiamo operato negli scenari che avevano individuato il Dipartimento di Protezione Civile. Due mesi, dopo due anni di addestramento, abbiamo brevettato i due nostri border colli, sia io che il mio collega Vincenzo Scalise, che è un altro conduttore, con Michele Ferla, l'altro conduttore ancora, sempre di border colli. Abbiamo specializzato e brevettato i cani per la ricerca in superficie. I cani saranno a disposizione ovviamente delle questure, delle prefetture, dei comuni in caso di necessità e di urgenza.